Ambarabacicicocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabacicicocò. Ciao amici, buongiorno, come state? Buon martedì. Oggi è il giorno 9 dello speciale Filastroche. La di oggi è importante per apprendere a pronunciare bene la SC quando sta delante di E e I in italiano. Però antes quería decirle che sto super contenta, che la maggiorì sta intentando ripetirle Filastroche. Grazie, complimenti, perché io sai che non è facile. Quindi, se volete enviarmi una nota di voce con una delle Filastroche che abbiamo durante i giorni passati, mi fa molto felice. Non sto qui, per esempio, per giudarli, o se, sto qui per aiutarli. Quindi, se volete, mi la envian e le posso corregir e darles consejos per migliorare. Otra cosa, non so se si già lo vieron, al Filo por il Mundo, acabo di pubblicare un video che ho grabato questo fin di settimana, il domingo, basicamente, passeando per la mia città, in Milano, per supuesto, e presentandomi, contando un po' di quello che faccio con la mia amica italiana e, soprattutto, con immagini molto belle di mia città, del Naviglio. Quindi, se lo volete vedere, la mia città, in la contà di Al Filo por il Mundo, e mi lasciano sapere se le gustò. Ora vi faccio la Filastroche di oggi, che si chiama La Filastrocca dello Ski. Questa è la storia di una scimmia che dallo scivolo si buttava, nella piscina nuotava, sull'asciugamano si sdraiava, e la scimmia ormai distrutta si mangiava la pasta asciutta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti